hashtag noi amiamo gli animali ormai ci è ben chiaro che i comportamenti dei nostri amici a quattro zampe hanno tutti un significato per quanto lo facciano in modi per noi alquanto strani ci vogliono sempre trasmettere qualcosa ma alle volte uno stesso comportamento può avere anche più significati diversi tra loro un esempio è quando fido si posiziona pancia all'aria in questo nuovo video pensato per voi da noi di amore a quattro zampe scopriremo insieme perché i cani ci mostrano la pancia se vediamo fido intento arrotolarsi sulla schiena con collo e pancia all'aria un primo significato si ritrova nelle sue origini primitive questo comportamento infatti è tipico dei lupi che esponendo le due aree più delicate come pancia e collo vogliono mostrare sottomissione a coloro che sono di rango superiore nel branco se dunque a posizionarsi pancia all'aria è il nostro fedele amico vuole farci capire che riconosce in noi la figura del capobranco ovviamente le azioni che compie il nostro migliore amico quattro zampe non sono solo provenienti dalle sue origini ma come vi abbiamo anticipato possono avere tantissimi altri significati tornando dunque all'azione del mostrare la pancia fido lo fa per comunicarci nella sua lingua canina che si sente totalmente al sicuro con noi umani proprio per questo motivo vi capiterà spesso di notare che assume questa posizione nella sua casa il luogo che lui reputa come il più sicuro al mondo ecco dunque che potrete trovarlo in questa posizione in qualsiasi momento dal suo pisolino pomeridiano nella sua cuccia fino a tardanotte pancia di un cane è anche il punto nel quale si trova meno pelo e per questo motivo fondamentale per aiutarli a regolare la loro temperatura corporea se dunque notate che fido si sistema spesso pancia all'aria durante i mesi più caldi dell'anno beh allora ha sicuramente caldo ed è in cerca di un po di aria fresca infine ma non certo per importanza fido è un gran coccolone e questo lo sappiamo bene è per questo che uno dei tanti significati del suo posizionarsi panciotta all'aria può essere semplicemente quello di voler ricevere dal suo amico umano coccole e grattini per questo video è proprio tutto se vuoi saperne di più sul perché i cani ci mostrano la pancia clicca sul link dell'articolo corrispondente ma non solo vuoi maggiori approfondimenti scoprili sempre nel link che trovi qui sotto non perderti inoltre gli altri video che abbiamo realizzato per te per capire lo strano mondo di fido anche il vostro cane è solito mostrare il suo bel pancino fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a quattro zampe ciao ciao